E tu sarai un ritorno importante in vista degli incontri prossimi anche di domenica? Sì, sicuramente mi metterò a disposizione della squadra. Il mister esiderò a farmi scendere in campo, però sicuramente sono a completa disposizione. Cercherò di dare una gossa mano alla squadra come da altrimenti tutti i miei compagni. Ogni domenica scendere in campo e danno il massimo sempre. E' stato duro essere assente domenica? Scusate, è stato parecchio duro, però ormai è passato e non voglio non pensarci più. Mister, per la salvezza che è possibile raggiungere serve anche un po' di fortuna, meno errori arbitrali, ma comunque lei chiede di più, a cominciare da domenica. Sì, io guardo il mio gruppo, chiedo di più, chiedo più a con stima, più convinzione. E se fino ad adesso hanno dato tanto devo dare il doppio di quello che mi ha dato, non ci sono più scusanti. Voglio che è un gruppo che ha voglia di crescere, che ha voglia di arrivare all'obiettivo e per arrivare a grandi obiettivi bisogna fare grandi secondifici, quindi bisogna avere una grande convinzione. A me gli arbitri e tutto il resto non mi interessa, pensiamo soltanto a lavorare e cercare di ottimizzare il lavoro settimanale che noi facciamo. Ecco, lei conosce la piazza di Agricentro, le voglio chiedere quanto sarà difficile dimenticare la sceneggiata di domenica scorsa dell'ex? Sì, ma io guardiamo avanti, togliamoci la soddisfazione nostra di salvezza, poi agli altri lasciamo queste cose che ha fatto. Io non ho visto che cosa ha fatto di piazza, che cosa è successo, però agli dirigenti me ne rispetto.